Luca Gavini numero 10 del Brugnato, oggi ha deciso il playoff, la finale, playoff contro il Marola Acquasanta, non è il primo gol in questa stagione però il più importante. Sicuramente sì, è bellissimo segnare in queste partite, è una finale, i ragazzi ci tenevamo tanto, il mister è tutta la società, il gruppo è bellissimo e ce lo siamo meritati. Ecco adesso andrete in un girone a 5, molto complicato, con delle squadre che rappresentano delle piazze importanti, così come del resto del Brugnato, cosa aspettarsi da questa squadra in questo girone? Sicuramente siamo una mina vagante, penso al paese. Non mi l'ha visto, non mi l'ha visto, e dai! E lasciatemi stare, dai! Sicuramente possiamo essere una sorpresa, magari siamo partiti all'inizio anno con obiettivi diversi, magari per la salvezza, però stanno dimostrando che siamo fastidiosi per tutti, siamo difficili da battere. Siamo una squadra rognosa e penso che possiamo dare fastidio. Torniamo alla partita e chiudiamo con una dedica a chi dedichi il gol. A chi dedichi il gol? A mia mamma. Ciao mamma, ti voglio bene.